Ragazzoni buonasera, ho appena finito un filetto al pepe verde che era incazzato nero, un manzetto affumicato con la bufala che era un pecorino in chiusura con l'inizio latina, quindi sono molto pronto a parlarvi delle nuove carte uscite, dei nuovi RTK del team 2, usciranno altre carte poi domenica come è stato la scorsa domenica per Robertson e gli altri 2 o 3 che sono usciti e andiamo a vedere anche l'SBC raga, poi qualcuno ve lo proverò, adesso comunque vi dico meglio il primo è Bernardo, ho sbagliato scena? Non ho sbagliato scena, perfetto, il primo è Bernardo raga, SBC costa 100k onestamente ne parlavamo in live, non saprei tanto dove metterlo sto Bernardo, ovviamente va usato un cacciatore il problema è che come vedete è un 4-3, alto alto classico, ovviamente il dribbling è esagerato, questo è una sorta di Messi ve lo ricorderete gli anni scorsi, però CDC ovviamente no ragazzi, manco per idea COC secondo me c'è di meglio in Premier, uno compra Sonno piuttosto, ci mette un De Bruyne scambiabile da esterno la velocità è sicuramente un po' è fake, perché questo Bernardo essendo poi piccolino immagino sia stile fechire e garrincio, è molto più veloce di quello che magari dice la carta però non da farlo esterno raga, non ha neanche la forza per farlo esterno i passaggi non sono clamorosi, l'unico ruolo che lo vedo mezzo bene è da Cicino e Rombo nel 4-3-1-2, nel 4-1-2-1-2, lì sì, o nel 4-3-2-1, però è una carta che secondo me eviterei di sbloccare io non ve la proverò raga, vi dico la verità, magari ve la provo Oli, ve la provo qualcun altro però non è una carta che vedo, ripeto, utile alla causa gli upgrade se li prenderà, li prenderà poi comunque a dicembre, saranno uscite altre carte in estraia la larga, vi dico la verità, da questo Bernardino Silva ah, ho sbloccato Fofana tra l'altro, vi proverò poi anche Fofana, vi porterò anche due parole su Fofana probabilmente su TikTok, quindi Bernardo per me ragazzi sconsigliato a prima impressione, poi magari me ne parlano, ce l'ho contro eccetera vi dico, mostro, però al momento raga se non cambia, ma non credo carta che vedo poco utile alla causa De Jong, il Goat, il mio Frenkie come ogni anno è tornato, stavolta non toti o tozzer carta molto molto carina, direi, devastante l'unica cosa è il tre piede debole che quest'anno ha di nuovo la carta base e hanno tenuto anche questa carta che è un alto in attacco però mi ha detto chi usa il buzz che il work rate non si sente, io non l'ho mai provato questo può tornare utile anche per il competitive, io infatti lo proverò sto cercando di comprarlo già adesso e vi porterò una recensione sicuramente, magari parlata in una video ma vi farò sapere, ovviamente non so a quanto interessa il prezzo molto alto non mi sento di dire raga che sia più forte di Kant in fase di difensiva perché Kant è un po' unico quest'anno però ecco, vicino a uno come De Jong, ne parlavamo di nuovo oggi in live puoi mettere chiunque, come vicino a Fred perché sono giocatori totali che fanno benissimo la doppia fase ovviamente da usare con ombra, Frenkie e ripeto, doppia fase assicurata quindi se lo trovate uno scambiabile, se siete intenzionati a comprarlo non vi fate problemi di chi metter di fianco cioè potete mettere tanto, come dico sempre, Viera quanto Zidane quindi tanto Kant è quanto mettere Bruno, De Bruyne, eccetera vedete voi con chi vi trovate sicuro per me la carta è devastante ovvio il prezzo non so quanti di voi abbiano questi crediti adesso e che senso abbia onestamente andare a spendere tutti questi crediti per un mediano cioè piuttosto di spendere avanti per Neymar e quelli Mbappé, eccetera quindi consigliatissimo ovviamente, però aspettate Marcolino che hanno bustato, devo dire la verità, non credevo da usare con Cacciatore, lui solo da COC per la Bundes è ottimo perché a memoria adesso non ricordo ci sono buonissimi COC in Bundes, ovviamente la stamina è quella che è la velocità è quella che è, però guardate qua Dribbling l'ha bustato come Dio comanda e gli hanno bustato anche un bel po' i passaggi e tutto il resto quindi gran carta, secondo me, da usare da COC anche il Finesse punta ogni attacco a due perché no, comunque c'è 87 di finalizzazione quasi 90 di shot power, quasi 90 di freddezza quindi ci può stare però lo vedo molto come COC questo Royce, esterno assolutamente no se volete fare una punta a punto di un attacco a due per me può farla occhio perché questo è da usare alla Beglier al momento, visto che non ha una gran corsa lui, Cacciatore ovviamente prezzo un po' alto, vi devo dire la verità non so se scenderà perché lo sapete che non me l'intendo però avrei detto un 300 per Royce onestamente Werner, altra carta con un prezzo fuori controllo come sempre il base costa 10k però questo per chi di voi lo sa usare come dico sempre, gioca in quel modo lì con i filtranti, con far correre i giocatori è una carta che dovete cercare in futuro di avere anche perché almeno un app lo prenderà secondo me è un bel animale anche in fascia peccato questa statistica qua che non si può vedere ragazzi 61 di passaggio lungo non si può veramente vedere per il resto ha anche la stamina quindi per me può fare anche la fascia ovviamente per dirvi io da punta prenderei sempre Son tutta la vita però per chi di voi la domanda sarà Sonif o Werner per me raga Werner tutta la vita se giocate in quel modo lì se giocate più stile me comunque per girarvi magari un po' meno filtranti allora Son Mane if o Werner Mane o Werner è l'altra domanda che mi viene che potete fare onestamente prenderei forse sempre Mane ma perché io la quarta skill la gradisco quindi anche se ho una crocchetta ogni tanto qualcosa la gradisco prenderei sempre Mane però se giocate in quel modo lì sempre io prenderei Werner vi dico la verità e se avete già usato il base vi siete trovati bene prendete Werner di fianco se giocate a due potete mettergli ovviamente chi volete potete fare Werner Mane tanto quanto fare Werner Son ovviamente o Werner ben dietro insomma le coppie di attacco lo sapete che non sono un problema stile intesa lo userai forse con finalizzatore raga per boostare agilità balance dribbling e le stats di tiro tanto correre corre già se poi non mi interessa Falco ripeto per quello che possono servire stile intesa glielo piazzerei per il tiro per la velocità e per il fisico che non fa schifo comunque carta questa interessante stavolta mi sento di dire il buon Werner Navas finalmente un terzino ragazzi come Dio comanda per la Liga lo prenderei solo se avete una Liga se no lascerei perdere magari anche per il link agliorente vi dico già che questo valore qua secondo me non è un problema perché il base lì quando lo beccavo contro dici minchia c'ha 44 di forza lo sfioro poverino vola nell'iperspazio non è proprio così in verità il 2 piede debole potrebbe essere un po' un problema però comunque se si limita a passare col destro raga è destro sto pellegrino è destro c'ha stats importanti di passaggio dribbling top buonissime stats difensive questo tra l'altro io una volta me lo ricordo se non pare di una cagata raga mi pare che facesse l'esterno alto una volta quando ero giovine ancora da usare questo con sentinella raga o sentinella ombra però se vi preoccupo in verità non serve a niente perché da 44 passa a 49 quindi se questi stili serviranno mai a qualcosa evitate ho detto una cagata lasciate perdere sentinella piazzate piuttosto ancora per bussare anche un po' l'aggressività farei un'ancoretta sì così bussate velocità difesa e fisico ripeto può tornare utile questa carta adesso non ricordo come è messo il civiglio onestamente fred fred allora oggi l'abbiamo visto ne ho parlato mi ispirava molto perché in confronto alla carta base ha avuto dei più 6 dei più 9 di fisico delle robe importanti ne parlavamo in live qualcuno mi chiedeva a chi si può paragonare questo è una sorta di renato si può dire più forte attualmente un renato non si può paragonare a Cantena non si può paragonare a De Bruyne no è un tutto campista vedete fa un po' tutto la carta secondo me è molto pulita e in game potrebbe essere o incredibile o un po' inutile secondo me una delle due cose io credo più incredibile però non ne sono sicuro e cercherò magari di provarvelo ottimo cc 4-3-2-1 4-1-2-1-2 eccetera ottimo cdc cc nel 4-4-2 nel 4-2-3-1 a chi affiancarlo appunto io metterei l'unico requisito che vi do uno un po' alto perché Fred Canté tipo ci sta come mediana però sono uno 1-68 l'altro 1-69 è un po' pochino quindi tutti tranne Canté praticamente olam mi viene in mente da dire per il resto qua un po' come vi dicevo prima per De Jong a chi affiancarlo questo può giocare vicino a chiunque cioè puoi fare via la Fred tanto quanto Zidane Fred in base a poi come ti trovi ovviamente un confronto con De Bruyne me l'hanno chiesto raga quindi lo facciamo molto rapidamente io credo che in confronto a De Bruyne questo sia ovviamente più rapido ovviamente si gira di più ma ovviamente come vedete già dal tiro De Bruyne è anche più cc è anche più conclude anche di più l'azione se lo trovi anche in area puoi provare il tiro a giro da fuori con Fred queste cose non le puoi fare e ovviamente nonostante Fred abbia ottimi passaggi De Bruyne ha un'altra qualità però come si girerà Fred non credo che si girerà De Jong e allo stesso modo in fase difensiva molto meglio Fred quindi fra i due anche se Fred costa più del doppio io prenderei Fred perché io poi non sono un grande fan di De Bruyne su FIFA non mi fa mai impazzire almeno il base prenderei Fred gli piazzerei un'ombretta e secondo me vuole decolla se avete cante prenderei De Bruyne perché sono un po' bassi a meno che non vi preoccupi l'altezza prenderei De Bruyne per tutti gli altri raga ripeto potete fare Fred Goretzka così come potete fare Fred Vira potete fare Fred Firmino no Firmino ancora no scusate mi sono sbagliato sto pensando a tutte le mediane che mi chiedete ogni giorno Fred De Jong anche il base potete fare Fred Llorente potete fare Fred Barella insomma un po' chiunque potete metterci vicino io ripeto cercherò di provarvelo perché la carta mi incuriosisce e non poco di questo Fred verissimo ok la velocità raga ma è un Kimbenbè fondamentalmente con pochissima reattività e pochissima freddezza e che è inibridabile quindi verissimo a meno che non abbiate squadre esotiche lasciate perdere se no ombra passiamo al Sharawi che vi proverò su Road to Glory di cui vi porterò probabilmente una gameplay review come è stata l'anno scorso sono un po' deluso però uno perché è un 4-3 e io ricordavo diverso almeno 5-3 e gli hanno dato 4 ma già la base quest'anno me l'ha fatto notare la chat e poi perché questa è un'altra carta che onestamente non saprei dove mettere cioè non ha la stamina per fare l'esterno perché muore subito probabilmente e non ha neanche tanti passaggi lunghi che possono essere un problema non ha la finalizzazione lo shot power e la freddezza per fare la punta qua abbiamo 80-79-78 proprio un po' pochino anche se siamo all'inizio se devo andare a acquistarlo dico magari lo metto punta insomma ha 3 piedi debole ha 80 di reattività le cose sono due o le stats sono un po' fake in questa carta e ci può stare e rende tanto io questo lo metterei in punto ogni attacco a 2 o esterno e se lo provo ve lo proverò in entrambi i posti o se no questa carta fa cagare ragazzi quindi io aspetterei che qualcuno lo prova secondo me potrebbe anche calare ancora un po' visto che ieri i nostri fratelli romani ne hanno presi 6 dal capocchia magari arriva su 40k aspettate qualche review oltre mia e di altri da usare con cacciatore però ripeto a prima impressione la carta non mi entusiasma un po' come quella di Bernardo poi magari si rivela un top player però dopo che l'avrò provato vi saprò dire meglio ma a Kiste di nuovo verissimo basta l'abbiamo già visto Ghiatta invece la freccia Ghiatta carta 4-4 anche qua come l'anno scorso solita carta di quelle che escono sempre ogni evento con 75 di reattività 76 di composure qualcuno giustamente mi diceva io il resto non so come ha messo il monaco come mi pare non male da cosa mi ha letto la chat tra lui e Gelsomino però prenderei lui ovviamente se avete bisogno di quel link matto se avete bisogno dell'esterno questo secondo me è meglio di Gelsom Martinson ovviamente non vi aspettate troppo raga corre nella vita corre cioè si sveglia e corre stile intesa gli piazzerei qua tanto finalizzatore non cambia mica nemmeno metterei falco ragazzi che magari dà anche una bustatina alla parte fisica che un po' di forza e di aggressività non fanno schifo un bel falchetto e almeno bustata anche un po' il tiro tanto inutile bustare i passaggi e il resto raga questa carta qua ha dei problemi ovviamente come tutti questi tipi di carta inizio gioco soprattutto ci sta sai che lo prendi per correre sulla fascia un po' come Gelsom è buono non ti aspetti nulla e ti triggeri meno che con Pelé che poi si mangia con la porta vuota a Mavi invece è un 3-5 come dicevo in live potrebbe essere un terzino interessante per i link visto che è francese però non lo so ho paura sia proprio un po' pesante non è velocissimo i stats di dribbling sono proprio brutte peccato perché ha passaggi anche decenti se volete provarlo raga però eviterei onestamente di spendersi 50k passiamo agli ultimi due Telemans no no 70 ad agilità medio medio peccato perché un 4-5 68 sprint speed 70 di forza 69 aggressività 82 di stamina questo è più un COC per me che un CC ma non ha la velocità del resto per farlo peccato perché i passaggi sono esagerati perché un 5 piede debole però non mi sento di consigliarlo raga poi costa 30k scarsi se magari state un po' alle pezze provatelo però secondo me non può rendere più di tanto e non per tanto stile intesa ombra l'ultimo è Tapsoboschi che secondo me è una bella carta questa invece magari da piazzare insieme a Upamecano in Bundesliga ovviamente al di fuori della Bundes al momento inibridabile almeno un app lo prenderà non è il Tapsobati fino all'anno scorso però ripeto se avete una Bundes per me questo da avere obbligatoriamente da usare con ombretta abbiamo finito ragazzi abbiamo finito questa mini review poi ripeto qualcuno ve lo testerò vi porterò qualche gameplay review qualcosa su TikTok vi auguro un buon weekend un buon venerdì un buon sabato una buona domenica e ci vediamo presto prossimamente su questi canali probabilmente per un video sul coaching di nuovo raga alla prossima un buon